parliamo di gettato allora il gettato nel lavore ferri è comunemente visto come un aumento e basta in realtà può essere così ma non solo nel senso che il gettato si può vedere o non vedere quindi noi adesso parleremo di gettato come aumento invisibile e gettato come aumento decorativo se voi guardate il mio campione queste sono le maglie che io ho avviato e questo è tutto il pezzo che io sto ottenendo adesso lavorando perché perché qui al centro ho fatto dei gettati decorativi intervallati da due maglie e qui sui lati ho fatto dei gettati ma non lavorati in modo che poi fossero invisibili quindi il gettato lavorato come aumento lavorato poi per essere invisibile solitamente si usa nella costruzione proprio dei capi che possono essere scialle capi spalla i guanti piuttosto che i calzini eccetera quando noi andiamo invece ad utilizzare un gettato in modo visibile quindi lo utilizziamo come decorazione lo andremo a lavorare in modo diverso quindi il gettato nel giro successivo lo lavoreremo in modo diverso ed avremo però una decorazione sul sul nostro capo su quello che stiamo facendo i gettati solitamente infatti questi decorativi si utilizzano nella lavorazione dei pizzi piuttosto che dei punti insomma sempre come decorazione però possiamo unire la decorazione all'aumento delle maglie quindi a far crescere tutto il nostro lavoro come succede negli scialle perché negli scialle questa ad esempio è la decorazione che noi vediamo al centro nel classico scialle triangolare che però oltre ad essere una decorazione ci permette di aumentare a destra a sinistra dei nostri due triangoli che vanno poi a formare lo scialle triangolare appunto se noi invece vogliamo fare uno scialle che ha un'altra dimensione e non vogliamo che questa stessa decorazione sia visibile a destra a sinistra possiamo utilizzare il gettato allo stesso modo del centro mandandolo a lavorare in modo che poi non avremmo i buchini i classici buchini e come facciamo allora facciamo finta che questa è un lato del nostro scialle qui abbiamo la nostra maglia di vivagno io solitamente la prendo al rovescio e riporto il filo sul dritto vado a fare un gettato quindi il gettato non è altro che passare il filo sul ferro senza nessun'altra nessun altro tipo di lavorazione e continua la mia lavorazione fino ad arrivare al centro del mio scialle arrivo al centro del mio scialle quindi lavoro l'ultima maglia che precede la le due maglie che separano tutti e due gli aumenti faccio allo stesso modo quindi faccio un gettato passo il filo sul ferro lavoro le due maglie una e due e faccio nuovamente un gettato e continuo a lavorare sino all'estremità opposta dove andrà a fare sempre il mio solito aumento se noi stiamo facendo uno scialle quindi deve crescere in modo armonico e deve deve crescere tutte deve deve far crescere tutto e due i lati scusate oggi forse vado come il tempo e mi ingarbuglio anch'io con le parole poi mi si contesta che non mi non mi escono le parole ma purtroppo è così perché vorrei spiegare le le cose in modo semplice ma non fare video chilometri c quindi adesso arrivo alla fine sempre considerando che questo sia un piccolo scialle in questo caso io la gli aumenti centrali non l'ho fatti al centro della lavorazione ma poco importa perché solo una dimostrazione quindi non vi sto facendo vedere come si costruisce una scialle bensì come si usano gli aumenti quindi arrivo al termine anche qui andrò a fare il mio gettato perché anche qui dovrò fare l'aumento e andrò a lavorare la mia ultima maglia adesso quello che è determinante per avere questo risultato piuttosto che un risultato del genere quindi dove il nostro gettato è impercettibile invisibile è proprio la lavorazione che noi andremo a fare sul rovescio quindi lavoriamo la nostra maglia di vivagno che è la prima maglia io la vado sempre a prendere sul dritto e poi mi porto il filo sul rovescio questo il nostro gettato non faremo altro che andarlo a lavorare allora dovremmo lavorarlo in modo ritorto ora cosa significa in modo ritorto se io lavorassi questo punto che il mio aumento in modo normale io andrei ad infilare il ferro qui all'interno e andrei a formare il punto in questo modo e lascerei cadere il gettato siccome io voglio che non si veda quindi che il mio il mio aumento sia invisibile io lo vado a lavorare sul davanti prendendolo qui e lo vado a lavorare in modo ritorto lo lascio cadere e continuo la mia lavorazione vedete che qui non c'è nessun nessun buchino perché lavorando il gettato in modo ritorto andiamo a nascondere l'aumento fatto col gettato ora arriva agli altri e andiamo a vedere come lavorare gli altri sono arrivata al gettato del centro quindi quello che adesso io vorrò rendere visibile se io lo volessi rendere invisibile lo andrei a lavorare in modo ritorto quindi allargando leggermente il punto andrei a prendere da dietro mi infilerei dentro al punto andrei a lavorare tutto il punto in modo ritorto siccome io voglio che sia visibile come questi sotto semplicemente infilo il ferro all'interno del cappio che si è formato con il gettato lo lavoro e lo lascio cadere continuo la lavorazione ho un altro aumento sempre con il gettato che per me deve essere decorativo entro con il ferro all'interno passo il filo e lo lavoro come un rovescio normale e arrivo sino all'altra estremità sono arrivata all'altra estremità quindi alla fine ed ho il mio gettato anche in questo caso io voglio che sia invisibile quindi che non mi vado a formare il buchino devo sempre lavorarlo per come ho lavorato tutto il resto dalla lavorazione almeno che il pattern che io sto seguendo non mi dà non mi dà altre indicazioni quindi io in questo caso devo andare a lavorare sul rovescio così si presenta il mio punto entro all'interno dal davanti così e lo vado a lavorare il lavoro il mio ultimo punto se io giro il mio lavoro io ho semplicemente una maglia ritorta in più rispetto al giro sottostante lo stesso da questa parte o semplicemente una maglia in più senza nessun buchino al centro invece ho le mie decorazioni ed ho il buchino quindi il gettato si può utilizzare sia in modo visibile che invisibile sia come elemento decorativo che comunque ci aiuta a dare forma al nostro capo quindi ad aumentare le maglie nella formazione proprio di quello che noi stiamo facendo piuttosto che andarci sempre ad aiutare in modo da aumentare le maglie quindi a formare quel nostro capo un capo spallo qualsiasi cosa ma lavorandoli in modo ritorto ci dà la possibilità di andare a nascondere il forellino che solitamente crea un gettato che tipo di differenza c'è tra aumentare con i ferri circolari piuttosto che con i ferri lineari nessuna assolutamente nessuna gli aumenti si fanno allo stesso modo si lavora allo stesso modo come vedete io con i ferri circolari lavoro con il filo a destra quindi lavorare con i ferri circolari non non preclude l'utilizzo del filo a sinistra non c'è nessun tipo di movimento diverso da fare rispetto a poi vale l'ergonomicità vale anche la praticità con la quale una persona cerca di lavorare con i ferri circolari io lavoro sia con il filo sulla sinistra che con il filo sulla de sulla mano destra ovviamente quando faccio un lavoro cerco di essere continua ovvero non scambiare destra e sinistra anche perché altrimenti poi la tensione nella nella lavorazione proprio nella formazione del tessuto si vede quindi anche se sentiamo parlare di gettato con i ferri circolari aumento con i ferri circolari piuttosto che con i ferri lineari è solo un video in più che qualcuno fa per dimostrare come si fa il gettato perché si fa allo stesso modo ora vi faccio vedere prendo il filo sulla mano sinistra io lavoro così quindi mi passo la mia prima maglia sul ferro di destra faccio un gettato e continuo a lavorare non c'è nessun tipo di adesso sono lontano cioè devo stare lontana quindi per me non è proprio praticissimo lavorare così quindi se io qui mi trovo a dover fare un aumento faccio semplicemente questo movimento quindi da sotto prende il mio filo lo metto sul ferro e continuo la via lavorazione ora cosa c'è di diverso rispetto ad avere il filo sulla sinistra fare un gettato e lavorare nessuno cambia il tipo di movimento perché il filo piuttosto che arrivare da destra arriva da sinistra il risultato sarà lo stesso e non sono i ferri circolari che precludono l'utilizzo di alcuni punti piuttosto che altri poi magari approfondiremo il discorso dei ferri circolari e della differenza perché è vero che si deve prendere praticità e quindi utilizzare i ferri circolari ci permette di non farci stancare le spalle di lavorare solo con le mani ma capisco che per chi deve passare dai ferri lineari ai ferri circolari non sia proprio semplicissimo ma è tutta questione di pratica e di movimento allora in questo caso noi abbiamo visto adesso il gettato come aumento visibile invisibile magari la prossima nel prossimo video andremo ad analizzare un altro tipo di aumento perché gli aumenti ce ne sono tantissimi cioè non è solo il gettato ovvio che alle basi c'è l'aumento col gettato ma ce ne sono tantissimi altri spero che vi sia stato utile che io sia stata sufficientemente chiara come al solito devo fare inquadrature vicinissime perché oltre a tutto il resto mi sono anche bruciata una mano cioè quindi piove sempre sul bagnato ma vabbè cerco di fare quello che posso se vi è piaciuto e mi lasciate un like e ci vediamo alla prossima ciao